Roberto Baggio Prova a tirare Il noto Cinquantesimo gol La rete per cui tutti i tifosi hanno pagato il biglietto oggi Ha fintato e trovato l'angolo davvero spettacolare Ha deciso in una frazione di secondo dove andare Spiazzando il marcatore con una finta e sgusciandogli via After 12 minutes is Number 10 Roberto Baggio